buongiorno a serenella salomoni.it carissima ciao 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 buongiorno via 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 applausi applausi sono sinceri ma sono sinceri questi ciao come faccio a capire io se tu dici la verità come faccio capire che quegli applausi sono finti sono finti è vera è ragione non è facile capire quando una persona mente ed è quello che vorremmo capire no perché una persona che qualsiasi cosa ci dica vorremmo sempre sapere se effettivamente è molto spesso magari sta mentendo ma noi siamo così siamo più contenti di sapere che sta dicendo la verità per cui pensiamo che dica la verità però i bugiardi che possono essere persone che troviamo ovunque in ogni momento è una persona che ti pensi è una persona fragile ha poca autostima non ha fiducia a se stesso ha paura del giudizio a lui quindi inventa delle bugie queste bugie possono anche essere esagerate oppure possono essere come hai detto tu prima pensate cioè calcolate per cui alla fin fine tu ci credi però se ci stai un po' attento a certe cose tipo ad esempio quando ti sorridono hanno sempre gli occhi fissi non sorridono con gli occhi sorridono solo con la bocca e poi non sanno instaurare un vero legame affettivo non sono empatici poi se fanno un discorso e tu cerchi di andare nei particolari non cercano sempre di deviare quindi gesticolano molto no perché sai come fanno come fanno le persone che stanno sul palco i maghi e i maghi muovono molto le mani in maniera che ti distraggono e quindi tu pensi ad altro non stai attento ecco e poi pensano sempre di avere ragione sono sempre quelli che dicono questa questa è la cosa giusta questa è la cosa esatta sono molto manipolatori ecco quindi bisogna cercare di difendersi da queste persone perché sono false sono manipolatori sono forse vengono poi alla fin fine classificati come narcisisti ecco perché non hanno sono molto egocentrici ecco hanno una maschera che continuano a mantenere sempre si però allora a questo punto dovremmo rivedere un po tutta la popolazione perché io di persone così ne conosco tantissime quelli che ci interessano ah bravo conosco tantissime persone così però qualcuno dirà pur la verità insomma dipende se tu riesci a scoprirlo se tu vuoi sapere e fino a che punto dice la verità perché poi ci sono delle persone che non è che ci interessa più di tanto magari ne frequentiamo che poi magari pensiamo che siano anche che non siano proprio le litiere può andare anche bene mentre le persone che ci stanno vicine possiamo fare delle controprove vedere se effettivamente è così come pensiamo oppure se sono persone che tutti noi diciamo bugie per cui vedere se ci sono delle piccole bugie oppure se queste persone ci mettono in continuazione quindi abbiamo vicino una persona che ci vuole manipolare molto molto chiaro grazie Serenella buona giornata a presto ciao ciao domani